Le grete di oggi sono tante, Greta Thunberg è solo l'epifenomeno, ne ha convinta Franca Giansoldati, vaticanista del messaggero e autrice del volume L'alfabeto verde di Papa Francesco. Un decalogo sull'enciclica verde, laudato sì, di Bergoglio, accompagnato dal suo impegno ambientalista che si ripercuote non solo sull'aspetto spirituale e sociale. Le generazioni future probabilmente saranno quelle che salveranno il pianeta, sicuramente. Lo vediamo anche adesso con Greta, che è l'epifenomeno quasi. Poi però accanto a Greta ci sono tantissimi altri ragazzi, in India c'è una ragazza che sta manifestando da più di un anno e mezzo in Canada, ne abbiamo una in Italia. Insomma, le grete sono tante perché probabilmente i ragazzi sono quelli che avvertono con maggiore determinazione, con una certa preoccupazione di un orizzonte che a loro non è così sereno come lo abbiamo potuto vivere noi o anche l'hanno potuto vivere i nostri genitori. Proprio in questi giorni un fantoccio di Greta è stato impiccato in un ponte di Roma. Gian Soldati denuncia. Mi dispiace tantissimo che questi ragazzi vengano presi un po' sotto gamba, vengano criticati, vengono addirittura dileggiati. Mi dispiace moltissimo leggere di Greta, vederla offesa bullizzata, perché come Greta appunto ci sono tantissimi altri suoi coetanei e mi dispiace perché chi sta criticando questa generazione appartiene a una generazione che ha fatto il 68, voleva cambiare il mondo, voleva rivoluzionarlo e adesso si trova di fronte a quelli che lo vogliono rivoluzionare e però li vogliono appunto mettere da parte, neutralizzare e questo comunque ci fa capire che c'è bisogno per tornare all'enciclica, c'è bisogno di un patto generazionale.